Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo delle pensioni anticipate di marzo 2022 in quanto comunichiamo le date ufficiali per quanto riguarda il ritiro in posta scaglionato secondo il solito metodo dei cognomi. Le pensioni saranno pagate a partire dal 23 febbraio e si concluderanno il primo marzo i pagamenti. Vediamo insieme tutti i dettagli in questo breve video. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Le pensioni di marzo 2022 saranno anche esse anticipate probabilmente saranno le ultime ad essere anticipate secondo il metodo del calendario scaglionato in quanto lo stato di emergenza si concluderà il 31 marzo 2022. Vedremo siccome si sta vociferando negli ultimi mesi l'anticipo delle pensioni imposta diventerà strutturale quindi a prescindere dallo stato di emergenza. In ogni caso ora vediamo il calendario anticipato per quanto riguarda le pensioni di marzo 2022. Lettere dalla A alla B mercoledì 23 febbraio lettere dalla C alla D giovedì 24 febbraio lettere dalla E alla K venerdì 25 febbraio lettere dalla L alla O sabato 26 febbraio lettere dalla P alla R lunedì 28 febbraio e infine lettere dalla S alla Z martedì primo marzo. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti. Grazie per la visione!